Saluto le autorità civili e militari e religiose, gli amministratori, i cittadini e tanti studenti e loro docenti qui presenti oggi. L'amministrazione comunale e la cittadinanza di Cassafranco Veneto vogliono rendere omaggio ad una nostra illustre concittadina, primo ministro donna della Repubblica Italiana, Tina Senni. Come amministrazione comunale stiamo sviluppando un progetto, Tina Senni, una vita per la Repubblica, con una serie di attività che si svolgeranno, in parte si sono svolte nel 2022 e si svolgeranno nel 2023. Perché parlare di Tina Senni? Tina Senni nei 23 anni di impegno politico ha ricoperto due incarichi parlamentari, 4 incarichi di governo, ha presentato 475 disegni di legge, 134 atti di indirizzo e controllo, 128 interventi in Parlamento, quindi possiamo dire che è una vita spesa per la politica. Nell'ambito del nostro progetto abbiamo già sviluppato le attività il 19 maggio del 2022 con il titolo La Giovani Tina Senni, con i relatori Mauro Pitteri e Teresa Segra, con la collaborazione del CIS Veneto e il patrocino dell'Ufficio Scolastico Regionale. Un altro tema è stato sviluppato l'8 ottobre, sempre del 2022, con il titolo La Resistenza, relatori Paolo Mieli, Rita Caberlin, Francesco Tessarolo e tanti studenti del nostro distretto scolastico. Inoltre si sta svolgendo un corso di formazione per docenti sui temi di Tina Senni con il Centro Documentale Archivio Famini di Roma. L'amministrazione ha consegnato alle scuole numerose copie di libri proprio per diffondere la conoscenza della nostra illustre concittadina. Abbiamo in calendario attività a seguire di mostre, di convegni e anche la realizzazione di un bene iconografico. Il progetto Tinan Selmi avrà un logo dedicato per la diffusione della comunicazione. Quindi tutto questo perché? Perché assieme al grande maestro Giorgione, Castelfranco potrà essere ricordata anche come città di Tinan Selmi, una Castelfranco città d'arte ed un connubio fra turismo e cultura. Oggi, 25 marzo, parliamo di sanità perché Tinan Selmi il 23 dicembre del 78 ha approvato la legge 833 che consente a tutti noi di usufruire della sanità pubblica. Abbiamo invitato il Presidente della Regione Veneto e l'Assessore Lazzarin che per impegni precedentemente assunti non sono potuti essere presenti qui oggi, ma do lettura a una lettera che loro ci tengono molto che venga presentata. Pregiatissimo signor Sindaco Marcon, nel ringraziarla per il gentile invito, come già comunicato dalla mia segreteria, non potrò partecipare al convegno Tinan Selmi, una vita per la Repubblica, la sanità servizio nazionale a causa di concomitanti impegni istituzionali. Affido pertanto a queste righe il mio applauso per questa iniziativa i ricordi di una grande donna veneta, antisignana del riconoscimento della donna in campo politico e sociale e che ha scritto una pagina importante della storia del nostro paese, ricoprendo ruoli di grande responsabilità, soprattutto per avere dato vita al sistema sanitario nazionale. Prima donna Ministro della Repubblica Italiana ha fortemente voluto l'approvazione della legge 833 del 78 per istituire il servizio sanitario nazionale perché credeva nell'importanza che il diritto della salute fosse riconosciuto a tutti i cittadini. È stata un'autentica rivoluzione copernicana nella sanità ed elemento di massima civiltà di un paese. Se in Veneto oggi possiamo vantare una sanità universale e di eccellenza è grazie a Tina Anselli, al suo impegno di politico e di sindacalista. Un esempio di impegno sociale, di etica, onestà e rettitudine che va ricordato per quanto ha fatto con impegno e passione, con concretezza e spirito di azione. La sua rimane e rimarrà una figura che non ha tempo, di cui il Veneto deve essere sempre riconoscente ed orgoglioso. Concludo nel rivolgere il saluto della Regione Veneto e a mio personale a tutti voi Luca Zaia. Al signor sindaco Stefano Marcon, sindaco del comune di Castelfranco Vento e Greggio, anche se non potrò essere presente, desidero complimentarmi per il convegno in programma per il prossimo 25 marzo, il cui rilevante tema, la sanità a servizio nazionale, ha visto l'onorevole Tina Anselli, fondatrice della riforma sanitaria nazionale, che da valenza mutualistica assume il significato universale che oggi noi conosciamo. Certa del successo dell'iniziativa, la prego, signor sindaco, di portare i miei saluti a tutti i partecipanti. L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti assessore Emanuela Lanzarina. Oggi abbiamo il piacere di avere autorevoli relatori in materia di sanità. Ringrazio la collaborazione di la Fondazione in Salute che veramente quando ci siamo conosciuti proprio con le prime comunicazioni, le prime mail, siamo rimasti veramente sorpresi che nel giro di pochi giorni hanno risposto. Hanno detto sì, veniamo, veniamo a tenere il convegno a Castelfranco. I relatori hanno una nutrita bibliografia che per motivi di tempo adesso vado a sintetizzare. Presidente della Fondazione Italiana in Salute, avvocato Maurizio Azzan. Già docente dell'Università Cattaneo, direttore del Master di Assicurazione, Previdenza e Assistenza Sanitaria, componente osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, curatore del manuale di assicurazioni private. Ecco, questa è una parte di tutte le competenze che sta assolvendo ed è, sarà il coordinatore di questo convegno. Ministro Maria Pia Garavaglia, già sottosegretario di Stato del Ministero della Sanità per tre mandati e Ministro della Sanità del Governo Ciampi, giornalista pubblicista, docente, vice sindaco di Roma, commissario straordinario della Croce Rossa. Anche qui, solo una sintesi. Federico Gelli, medico specializzato in sanità pubblica, deputato, fondatore della Fondazione Italia in Salute, già Presidente della Commissione Sanità della Regione Toscana e già Vice Presidente della Giunta Regionale Toscana, Presidente di Commissione Parlamentare, per citare alcuni incarichi. Fidelia Cascini, insegnante igiene generale, esperta di sanità digitale presso la Direzione Generale Sistemi Informativi del Ministero della Salute, componente gruppo di coordinamento, progetto nazionale, diffusione della telemedicina. Delegata nazionale, Ministero Affari Esteri al Consiglio Europeo per Regolamento sullo Spazio Europeo dei Dati Sanitari. Ha scritto diversi libri, tra cui Responsabilità, Rischio e Danno in Sanità, con Maurizio Azzan e Federico Gelli e Onorevole Ministra, con Walter Ricciardi. Walter Ricciardi, medico, direttore Dipartimento Sanità del Policlinico Gemelli di Roma, professore ordinario, vicepresidente Facoltà Medicina e Archeidologia Università Cattolica del Sacro Cuore. Dirige l'Osservatorio Italiano sulla Salute delle Regioni Italiane e lo conosciamo come consigliere scientifico del Ministro della Salute nell'emergenza Covid. Allora, fatte queste breve presentazioni, ho l'onore di invitare sul palco il Sindaco del Comune di Castelfranco e Presidente della Provincia di Triviso per gli onori di Rito. Grazie. Un saluto a tutti i presenti anche da parte mia, in particolar modo al tavolo dei relatori. Vedo la famiglia Anselmi con la sorella, la nipote, vedo Don Dionisio, vedo il Sindaco di Pieve del Grappano che è Presidente del Comitato di Distretto, l'Assessore Tessarolo, tutti voi, tutti voi partecipanti e vedo e ringrazio soprattutto i ragazzi presenti in platea e nei palchetti. Un ringraziamento particolare che consentitemelo a Mary Pavin, Presidente della Commissione Cultura. Mary, vieni qui. Fatele un applauso. Con Mary e con l'amministrazione tutta abbiamo intrapreso ancora l'anno scorso questo percorso di valorizzazione della figura di Tinan Senmi. Tinan Senmi è stata staffetta partigiana, Tinan Senmi è stata primo ministro donna in Italia, Tinan Senmi è stata Presidente della Commissione P2, Tinan Senmi è nata e morta a Castelfranco Veneto e Castelfranco Veneto ha il dovere di celebrarla alla sua altezza. C'è stato un periodo in cui qualche critica all'amministrazione veniva mossa perché magari non intitolava una via, una strada, una scuola a Tinan Senmi ma abbiamo deciso di non intraprendere quel percorso perché correva il rischio di rimanere fine a se stesso l'idea che Mary ha portato avanti veramente con capabilità e con visione alta è quella di far sì che a Castelfranco Veneto a Tinan Senmi si associ sempre il nome di Castelfranco Veneto e viceversa e io credo che con questo percorso ci stiamo riuscendo e ci riusciremo perché riusciremo soprattutto a voi ragazzi far capire la statura di questa persona di questa donna che è stata antesignana in tante cose e che aveva la voglia di cambiare quelle cose che non funzionavano e aveva più o meno la vostra età quando ha cominciato a fare la staffetta quando ha cominciato ad interessarsi al cambiamento delle cose che non funzionavano e per farlo bisogna esserci come diceva lei e bisogna crederci quindi la finalità di questo momento di questo progetto di valorizzazione di Tinan Senmi è appunto questa far sì che quei ragazzi che non hanno potuto avere il privilegio di qualche testimonianza diretta e ci sono ancora figure a Castelfranco Veneto che hanno conosciuto hanno collaborato e hanno lavorato con Tinan Senmi e che quindi portano con loro un ricordo personale le vostre generazioni vivono magari di storie riflesse ed è giusto però che questa storia vi venga raccontata a 360 gradi e nell'ambito sanitario il momento che ci vede qui oggi ha fatto quella rivoluzione di cui ancora noi oggi possiamo godere i benefici perché passare dal sistema mutualistico al servizio sanitario nazionale di cui oggi godiamo godiamo appunto i benefici con alcune criticità perché succede nelle cose quando si fanno le cose si trasformano i tempi vanno avanti veloci e quindi bisogna essere al passo con i tempi e in grado di intercettare quali sono i bisogni di cambiamento io credo che oggi avremo la possibilità di capire le origini di quella di quella riforma ed eventualmente avere anche spunti che possano aiutare coloro che si occupano di sanità ad interpretare i bisogni dei cambiamenti e darvi risposte io vi ringrazio tantissimo di questa presenza numerosa di una presenza così qualificata come la vostra e sono sicuro che a Castelfranco Veneto verrà associato il nome di Tinan Selmi anche per questo momento grazie e buona giornata a tutti voi bene ora prenderà la parola il presidente Azzan buongiorno a tutti ringrazio questa bellissima città il sindaco Stefano Marcon la consigliere Pavin per questa bellissima occasione di incontro in questo luogo che quasi intimidisce per la bellezza classica che custodisce ho l'onore di raccolto il testimone di aprire questa giornata in cui succederanno relatori assolutamente prestigiosi ed è un onore non soltanto mio ma evidentemente anche della fondazione che rappresento e che è rappresentata qui non soltanto da me ma dal ministro Maria Pia Garavaglia dall'onorevole Federico Gelli dalla professoressa Fidelia Cascini e dal professor Walter Ricciardi ringrazio anche preliminarmente la dottoressa Nadia Guadagnolo nostra segretaria generale che è riuscita a organizzare così mirabilmente e a coordinarci in questa presenza che ci onora e ci fa felici l'omaggio che oggi si vuole rendere a Tina Anselmi è l'omaggio alla passione e alla lucidità politica ma prima ancora umana di una donna alla quale si deve evidentemente lo si è già detto la straordinaria svolta e la straordinaria riforma del 78 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale e che ha dato davvero attuazione ad una norma centrale cardinale all'articolo 32 della Costituzione che fino ad allora aveva conosciuto una bellissima elencazione di affermazione di principio ma non una reale attuazione globalità delle prestazioni universalità dei destinatari uguaglianza di trattamento rispetto della dignità e della libertà delle persone sono alcuni dei principi cardini che lo stesso ministro Anselmi aveva declinato nella relazione di presentazione della norma il giorno in cui venne approvata e sono questi principi che fondano appunto la legge 883 del 78 alla quale molto timidamente e assai più umilmente anche la nostra fondazione intende riferirsi per prendere parzialmente in eredità quello slancio ideale che Tina Anselmi aveva certamente incarnato ora io devo dire per quanto sia già appartenente all'era del paleozoico rispetto a tutto quel che sta succedendo e questi questi salti in avanti tecnologici che devo dire anche la crisi pandemica ha accelerato in maniera assoluta bene io ho dei ricordi ancora un po' opachi dei momenti storici così caldi in cui questa riforma centrale cardinale ha visto la luce ed è per questo che ho un po' cercato tra le techerai tra documentari dell'epoca ho trovato una bellissima intervista del ministro Anselmi in un sereno momento di confronto pubblico che così lontano dai dibattiti di oggi così accaniti serena e davvero colloquiale ma molto precisa e molto ferma e aveva perfettamente centrato oltre che a prevedere essere totalmente attuale su dibattiti come la centralità del domicilio come primo luogo di accoglienza e cura quindi cose che già perfettamente erano focalizzate all'epoca ebbene però rivelava e rilevava un punto centrale che questo articolo 32 della Costituzione che segna evidentemente la tutela salute come un diritto fondamentale dell'individuo non è soltanto un diritto dell'individuo ma una risultante di uno sforzo che deve essere evidentemente solidale collettivo e culturale perché lo dice la norma ma forse è bene ricordarselo la salute di ciascun individuo è un bene di interesse collettivo questa dialettica duale e bilanciata che mette insieme i sacri diritti fondamentali individuali insieme a quelli che sono degli sforzi devono essere degli sforzi collettivi per vada l'intera Costituzione perché ovviamente il pensiero corre all'articolo 2 della Costituzione che è certamente trasversalmente centralmente fondamentale tra i fondamentali e dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ma richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale ebbene la tutela della salute quindi è prima non soltanto il diritto di ciascuno di noi ad essere curati quando siamo pazienti ma anche il nostro dovere di aver cura di noi stessi e di aver cura della sostenibilità del sistema sanitario il che significa che aver cura della sostenibilità vuol dire partecipare ad un impegno solidale attraverso la cultura della prevenzione ma anche attraverso la cultura della pacificazione del recupero dell'alleanza terapeutica riprendere il dialogo tra coloro ai quali i nostri medici noi come pazienti ci affidiamo per essere presi in carico e la loro la tutela della loro serenità perché la loro serenità è la nostra prima garanzia di sicurezza e qui si pone un punto di contatto con la legge 24 del 2017 la cosiddetta legge Gelli che prende il nome da colui che così con tanta cura l'ha alimentata voluta e preparata ebbene questa legge seguendo l'abbrivio della norma principale costituzionale e ovviamente dei principi che si pongono a fondamento della legge 8.3 del 78 segue un percorso che è ugualmente bilanciato e vuole introdurre un concetto fortissimo che tende a dire che la responsabilità sanitaria in realtà è sanità responsabile e tutto ciò che noi dobbiamo fare insieme per sostenere responsabilmente il sistema e per far sì che la responsabilità sanitaria non sia all'abbrivo di una deriva malfidente e accusatoria ma al contrario che sia l'esempio di un segno di affidamento forte nei confronti di coloro i quali tutti i giorni scendono in trincea per difenderci per difendere la nostra salute la protezione del nostro sistema sanitario passa anche attraverso un controllo della confettualità e un ripristino dell'alleanza terapeutica perché la confettualità costa e costa due volte costa in termini economici costa in termini morali e porta sfiducia oggi vediamo che dopo il covid che ci ha portato come dicevo ad un grande slancio in avanti tecnologico però ha lasciato sul terreno difficoltà fragilità evidenti ragioni per potersi interrogare su cosa occorre fare e le difficoltà si devono confrontare con altre difficoltà l'evidenza della curva demografica il fatto che il sistema stia perdendo pezzi l'allontanamento creato da questa sfiducia generale da parte di coloro i quali ci devono curare e questo è una cosa che non possiamo permetterci il costo della litigiosità sbagliata perché c'è una litigiosità giusta sacra da rispettare e c'è una litigiosità sbagliata deve essere in qualche modo impedita voglio solo ricordarvi sono giurista e non voglio parlare di troppo di norme ma un principio che la Cassazione proprio dopo la legge Gelli ha voluto ben stigmatizzare e vi leggo in cui si dice che in questo momento si pone l'esigenza di non distogliere risorse indispensabili all'espettamento del servizio e di contrastare i riflessi negativi su organizzazione e derogazione del servizio sanitario pubblico determinato dall'incremento esponenziale degli impegni finanziari delle aziende sanitarie preoccupata di mobilizzare sempre maggiori risorse per far fronte alle possibili richieste risarcitorie a decremento dei necessari investimenti strutturali quindi non troppe lite cerchiamo di pacificarsi ed è questo quindi l'intento che la legge Gelli con una ideale soluzione di continuità vuol portare avanti e la nostra fondazione vuol provare a difendere perché come tutte le leggi ambiziosi di impatto pongono dei principi ma poi devono essere messe a terra verificate di continuo abbiamo avviato un tavolo tecnico proprio in questi giorni per provare a immaginare fare una ricognizione da cosa ha funzionato e cosa è mancato cosa bisogna integrare un tavolo tecnico con l'apporto di professionalità straordinarie siamo convinti potrà portare ad un contributo a livelli massimi istituzionali che potrà essere raccolto ed ascoltato per esempio nel campo dell'area terapeutica che è un tassello che manca e che sarà necessariamente da prendere in considerazione di fronte al problema delle infezioni nosocomiali che ce ne ha parlato tempo fa anche il professor Ricciardi in relazione a quello che è il grande tema dell'antibiotico resistenza che potrà portare a dei grandi problemi e che richiede di essere gestito non creando conflittualità ma ancora una volta creando alleanza e l'ultimo punto poi davvero vi lascio è il tema del ripristino di una comunicazione diversa per poter essere alleati occorre sapersi parlare occorre che tutti noi noi i legali in primo luogo i giuristi cambino l'approccio i medici tutti i politici tutti devono cambiare il linguaggio devono poter devono impararsi devono imparare a parlarsi in un certo modo e il livello di comunicazione crea comprensione crea fiducia crea affidamento e crea alleanza ebbene riguardando a quei documentari a quell'intervista bellissima intervista ho visto nel tratto e nei modi del ministro Anselmi una qualità di comunicazione straordinaria era una donna rassicurante chiara diretta padrona di una comunicazione semplice ed efficace semplice ma profonda e mai superficiale una donna insomma di cui ci si poteva fidare e ci manca grazie ciò detto passo ai relatori che molto meglio e molto più di me potranno raccontare ciò che è stato e portarci verso quel che sarà ragionevolmente e sono onorato di poter presentare e introdurre il ministro Maria Pia Garavaglia che è anche esponente del comitato scientifico della fondazione Italia in salute quindi noi abbiamo questo grande privilegio e beneficio di averla di annoverarla tra le nostre file e alla quale passo subito la parola ringraziandola grazie se vi dico che sono felice di essere qui capite perché vi ringrazio tutti ringrazio anche la mia fondazione che ha pensato proprio il 25 marzo di venire qui gli over 18 mi perdoneranno voglio parlare ai diciottenni o agli infradiciottenni oggi è il 25 marzo ed è la data di nascita di Tinan Selmy oggi è l'annunciazione e lei come partigiana aveva scelto come nome d'arte si fa per dire vero Gabriella perché Gabriele è l'angelo dell'annunciazione quello che porta i messaggi lei è stata staffetta portava non solo messaggi e forse dovreste ragazzi e ragazze conoscere quella storia perché quella storia è la radice di tutto ciò che l'ha resa protagonista davvero della nostra storia repubblicana perché è stata partigiana per tutta la vita anche in Parlamento e se sarò capace di essere chiara capirete il perché intanto perdiamo tempo anche per i nostri curricula ragazzi voi fate un pulsantino e sapete tutto di noi così nei convegni possiamo anche evitare oramai di presentare le persone perché schiacci lì e vieni a sapere tutto e quindi fatelo perché è interessante sapere anche chi c'è qui io sono molto onorata di essere qui con i miei colleghi il professor Ricciardi è una autorità internazionale quindi figurarsi che è bello sapere che è un nostro amico Gelli avete capito che ha fatto una legge importantissima oltre ad essere stato un parlamentare di grande qualità perché questa è la politica occorre essere competenti studiare essere chiari essere anche austeri e Tina com'era austera io di lei posso dire cose che nessuno può dire sono i suoi familiari perché siamo stati colleghi colleghe abbiamo abitato vicino la mia segretaria era la persona che affittava la camera a Tina Anselmi abitavamo al 30 al 31 di via uffici del vicario in faccia esattamente alla palazzina dei gruppi parlamentari voi quando vedete tutta quella selva di telecamere che stanno lì ad aspettare qualcuno che esce quello è l'anticamera è l'atrio della mia casa quindi capite dove abitavamo e attraversavamo la strada eravamo subito nel nostro luogo di lavoro che era la commissione sanità da ministro uscente ha voluto stare nella commissione sanità perché era il luogo in cui si sarebbe incominciato ad avviare l'attuazione appena stato detto che una volta che le norme ci sono occorre attuarle e occorre vigilare sull'attuazione perché nell'attuazione si inseriscono molte furbate e forse qualcuna ve la dirò la legge fu approvata nel dicembre del 78 833 78 si dice entrò in vigore il primo gennaio del 79 non in tutta Italia pensate che in Sicilia nell'8081 è entrata in vigore e vi dice che allora come oggi se sarò chiara si vede che la distinzione la differenza e le diseguaglianze nonostante si chiami servizio sanitario nazionale non siamo riusciti a ridurla e forse per certi aspetti queste diseguaglianze si sono anche acuite però voi ragazzi ma forse anche un po' delle persone che hanno un'età media questo bellissimo teatro non sanno che non ha sempre noi abbiamo avuto il sistema sanitario nazionale prima del 78 ragazzi non c'era nulla se non il medico della mutua che era il medico no non della mutua il medico condotto che era dipendente dal comune e l'ostetrica condotta che era dipendente dal comune poi c'erano i medici della mutua quelli dell'Inps dell'Enel dell'Eni cioè medici di compagnie di aziende che facevano la mutua per i loro lavoratori per cui il contadino anche il commerciante che si può dire che avesse un po' più di possibilità di altri se non si iscrivevano ad una mutua non avevano nulla al massimo 30 giorni cioè un mese di ospedale all'anno adesso noi tutti qualsiasi cosa crediamo o davvero abbiamo bisogno dal punto di vista della tutela della salute l'abbiamo gratis voi potete dite no si pagano i ticket parleremo anche dei ticket l'altro giorno è avvenuto al Rizzoli di Bologna un intervento alla colonna vertebrale che in pochi paesi al mondo perfino non in tutti i paesi europei perfino non in tutti i paesi europei è avvenuto un intervento che negli Stati Uniti sarebbe costato un milione di dollari in Italia non si è pagato niente neanche il ticket perché era ricovero ospedaliero ieri avrete visto che è stato fatto un trapianto di cornea un autotrapianto in pochi paesi in Europa e in nessun paese negli Stati Uniti sarebbe stato possibile sostenere la spesa di quell'autotrapianto può darsi che le piccole cose in Italia ci costino un po' ma i grandi problemi i grandi rischi in Italia non costano niente e vi sembra poco l'articolo 1 dell'833 riprende quasi interamente l'articolo 32 della Costituzione a cui le madri costituenti non c'era Tina era giovane aveva fatto la resistenza avevano molto contribuito la Repubblica tutela il diritto fondamentale no la Repubblica garantisce la nostra Costituzione non concede la nostra Costituzione garantisce rimuove assicura cioè la nostra Costituzione i diritti inviolabili della persona di cui è l'articolo 2 li riconosce per cui riconoscendoli poi deve mettere in pratica qualcosa per fare che siano esigibili quindi la Repubblica garantisce il diritto fondamentale è l'unica volta che nella Costituzione viene usato l'aggettivo fondamentale vicino a un diritto la tutela il diritto fondamentale la tutela della salute come bene individuale e interesse della collettività un paese in cui c'è la gente che non ha paura di ammalarsi di non essere curato o se è sano lavora invece di avere l'assistenza o la previdenza partecipa al congresso al progresso del paese dovere stavolta inderogabile di ciascuno di noi perciò la tutela della salute è ben di più di curare una malattia quindi questa riforma cari ragazzi è forse durante l'età repubblicana la riforma che porta il livello di civismo dell'intero nostro popolo a un livello raramente raggiungibile da altri paesi vicino a me ci sono persone che entreranno nel dettaglio per cui per non voler né anticipare cose che le direi meno bene né per fare in modo che ci sfuggano delle sottolineature politiche io ragazzi voglio insistere sul dato politico di questa grande riforma Tinan Selmi era nella commissione sanità io sono diventata parlamentare nel 79 nella commissione sanità che non avevo chiesto io venivo dalla scuola avevo chiesto di partecipare alla commissione pubblica istruzione il gruppo parlamentare del mio partito che era lo stesso di quelli Tinan Selmi la dc mi ha mandato alla sanità ho protestato e mi hanno detto alla sanità non vuole andarci nessuno quindi per completare il numero dei partecipanti alla commissione mettiamo gli ultimi arrivati perché quelli che erano già qui hanno il diritto di scegliere non era tra gli ultimi arrivati però Tinan Selmi ha scelto lei di stare nella commissione sanità perciò pensate avevo un monumento con me e io giovinetti ero il capogruppo della commissione sanità vi dice di uno stile di quel tempo che un ex ministro non si mette in testa a tutti gli altri colleghi e il capogruppo era un parlamentare qualsiasi questa qualsiasi Maria Pia Garavaglia il ministro che era diventato ministro della sanità si chiamava così allora e ci sarebbe un motivo perché salute è troppo etico come termine però insomma il ministro della salute era Renato Altissimo il segretario del partito liberale lo dico con un po' di dolore per l'assessore che viene da quella storica forza politica che era l'unico partito che non aveva votato la riforma sanitaria il curioso della politica per cui il partito liberale per partecipare all'alleanza di governo aveva chiesto espressamente la sanità come successe poi per un altro ministro che era De Lorenzo che era stato il mio ministro quando io sottosegretario era incominciata con una grande difficoltà il cammino della riforma sanitaria pensate che l'Inps aveva recuperato un po' delle attività che riguardavano la previdenza ma l'assistenza sanitaria era dell'Inam e il sistema sanitario aveva eritato già 10.000 miliardi di deficit dell'Inam quindi l'avvio della riforma che veniva finanziata secondo l'883 con la fiscalità generale cioè con le nostre tasse è evidente che avendo diffuso su tutto il territorio nazionale per tutti i cittadini italiani ma anche per chi il cittadino italiano non fosse e fosse residente qui è stato uno scoppio di deficit e il ministro De Lorenzo fu il primo ministro che introdusse dei ticket doveva servire a disincentivare l'uso consumistico soprattutto dei farmaci e della diagnostica ma in realtà non ha determinato nessuna riduzione perché la gente dopo un po' impara e chiede quindi il discorso dell'883 è che ha reso comunque i cittadini consapevoli di avere il diritto ad essere curati l'articolo 1 dell'883 riprende anche un altro concetto importante che veniva da una di una definizione della salute perché se uno vi chiede che cos'è la salute secondo me barcogliamo un po' perché diciamo ah non essere ammalati stare bene l'OMS diede una definizione che forse oggi il professor Ricciardi vi spiegherebbe che è stata ulteriormente modificata perché era anche quella forse eccessiva e per certi aspetti neanche del tutto completa secondo l'OMS nel 78 quindi proprio in coincidenza con l'articolo 1 che avveniva nel dicembre l'OMS al Matà era nel settembre del 78 la salute è lo stato di completo benessere psicofisico della persona completo benessere già adesso i medici vi direbbero che non siamo sicurissimi di non avere dei rischi di non avere delle predisposizioni comunque è una bella definizione che sembra più che cos'è la felicità lo stato il completo benessere psicofisico allora però qui dentro c'era che la tutela della salute non cura solo la malattia ma è interessata a tenere a bada la persona intera oggi tutti i nostri scienziati che abbiamo qui vi parleranno potrebbero parlare che abbiamo il tempo limitato dell'One Health però in realtà prima di curarci se stessimo bene attenti a come stiamo come mangiamo come lavoriamo come viviamo in casa avremmo la prevenzione soprattutto quella primaria proprio stare attenti poi ci sono altre modalità di prevenzione a un rischio specifico perché c'è una familiarità in famiglia è una terziaria che dopo aver avuto interventi si sta attento come fare a non ricadere più comunque la prevenzione è una idea di promuovere la salute perché è anche questo il nostro dovere perché se stiamo attenti a non farci dei danni poi non pesiamo sulla società non pesiamo sulla famiglia e dopo la cura questa concezione prevede pretende che ci si metta in sesto il più possibile magari a riprendere interamente le funzioni o a ridurre i malanni che è la riabilitazione quindi la 833 ha messo mette sullo stesso piano importanti sanitariamente non psicologicamente o per moda prevenzione cura e riabilitazione e per arrivare a tutti i cittadini la 833 pretende che ci sia una specie di zonizzazione del territorio affinché in quella zona un certo numero di abitanti eravamo partiti da centomila centocinquantamila adesso arriviamo per certi aspetti a quarantamila cinquantamila vedremo ma lo diranno di più gli altri una zonizzazione che si chiamava unità sanitaria locale nella quale doveva starci almeno un ospedale se non quelli di altissima specializzazione un ospedale che una volta avremmo chiamato di zona Mariotti li avrebbe chiamati forse provinciali comunque un ospedale ambulatori medico di medicina generale cioè il medico di famiglia chiamato anche di libera scelta perché l'unità sanitaria locale con l'elenco ci fa scegliere non è vero non si riesce più a scegliere questa è una delle defiance di cui potremmo parlare in Veneto prendendo una norma che c'è già nell'833 che in 40 anni non siamo riusciti ancora a mettere a regime ma in Veneto le unità si chiamano unità socio-sanitarie locali perché in Veneto hanno voluto e ci sono riusciti in parte a integrare davvero il sociale e il sanitario ci sono troppe condizioni nelle quali curare solo o prevenire solo o riabilitare solo manca un pezzo perché si è senza familiari si è senza casa si è senza quei supporti che può essere l'asilo per i figli visto che sono una mamma malata il pezzo sociale l'assistente sociale l'assistente visitatrice sanitaria erano figure che stavano sparendo se fai la unità socio-sanitaria locale recuperi anche professioni sanitarie non mediche o professore o professioni assistenziali che completano il prendersi carico del cittadino costano di meno perché istituzionalizzano di meno altrimenti la cosa più veloce è andare all'ospedale che costa molto di più di fare interventi necessari ad hoc sul territorio e anche l'ospedale ha avuto la sua storia nell'833 perché prima l'833 il grande la grande risposta era l'ospedale si andava all'ospedale si stava quanto quanto voleva il direttore sanitario dell'ospedale più stavi all'ospedale più l'ospedale guadagnava perché veniva pagato l'ospedale a giornate di degenza adesso voi forse vi lamenterete perché ci mandano fuori anche troppo in fretta ma la logica era di stare all'ospedale quanto basta già prima si è parlato di resistenza agli antibiotici ma non avete idea potrebbe parlarne a Iosa il professor Ricciardi essendo un illustrissimo professore di igiene cosa si sta in un ospedale come malattie indotte batteri varie eccetera infezioni e si sono inventati i DRG che è sempre la parola americana diagnosis related group che vuol dire la scheda di dimissione lo do dall'ospedale in cui si dice cosa siamo andati a fare all'ospedale e quando andiamo a casa che cosa accade accade sempre che in Italia le cose quando le prendi in una maniera le fai andare in un'altra maniera se entri con una diagnosi e poi dentro all'ospedale succede qualcosa di ulteriore esci con un'altra prognosi quindi si dovrebbe costare quando esci è accaduto di tutto in Italia degli ospedali che avevano fatto le tracotomie un numero che non avevano fatto tutti gli ospedali insieme prima alcuni ospedali che facevano solo la emissione perché il sistema sanitario va amato dai cittadini da coloro che lavorano nel sistema sanitario il sistema sanitario è complesso come siamo complessi noi costoso obbligatoriamente costoso solo la ricerca le innovazioni tecnologiche i nuovi farmaci il personale sempre più qualificato sempre più aggiornato sempre controllato e non viene controllato intanto che parlo vedete che già ho buttato lì delle condizioni che se fossero sempre state mantenute avremmo avuto un sistema sanitario che non segnalerebbe le deficienze che vediamo che noi adesso invece in generale ci mancano se ci sono le code le famose liste d'attesa ci sarà un problema organizzativo anche ma anche un problema di prescrizioni non perfettamente coerenti eccetera ma poi mancanza di personale in un pronto soccorso in Italia in qualsiasi ospedale ci si trova in un girone quasi infernale ma quelli che lavorano nel pronto soccorso hanno turni a causa della mancanza del personale stress inimmaginabili e com'è lo stipendio dei medici ospedalieri in Italia ospedalieri quindi capite che quando si parla dei soldi per la sanità e uno dice spesa sanitaria dice una cattiveria in sé oltre che una imprecisione di economia generale perché la sanità è oggettivamente un investimento abbiamo detto se stiamo bene lavoriamo se stiamo male costiamo se usiamo male la sanità costa ancora di più e sprechiamo quindi per non entrare nel merito dell'intera legge mi taccio qui dicendo che ogni tanto abbiamo dovuto registrarla questa legge il ministro che fu il mio ministro quando ero sottosegretario io sono stato ministro sottosegretario con De Lorenzo e con Dona Cattelli un altro che ci manca De Lorenzo aveva fatto un disegno attuativo secondo lui della 833 in un momento in cui mancavano i soldi il 1990 91 è stato un anno drammatico dal punto di vista finanziario il presidente del consiglio Amato ha fatto la finanziaria più costosa di tutti i tempi 100 mila miliardi e mi ricordo che voleva togliere tra i tanti tagli che abbiamo fatto alla sanità il medico e medicina generale lì ho fatto una mia battaglia personale che mi è costata però costato poi gli applausi della gente ma io sono d'accordo con chi dice che chi governa deve governare per il paese e non per essere gradito al paese essere votato avevo messo una tassa di 55 mila lire avendo già stampato il bollettino postale per non far far fatica agli italiani per cui nell'anno 1992 avremmo fatto pagare agli italiani questo bollettino apriti cielo anche i morti è accaduto che mio papà era morto il 22 novembre del 92 quindi anche mio papà pagava il 55 ma era un modo per tenere in piedi l'accesso al sistema sanitario se non hai il medico l'accesso era direttamente agli specialisti direttamente all'ospedale un sindacalista della mia parte aveva detto che era una cretineria doveva trovare l'un altro sistema per proteggere i medici di medicina generale e cioè le famiglie ma non paghi che avevamo questo 55 mila lire che poi voglio dire in quei tempi non era così tanto ve lo assicuro ha fatto un decreto legislativo il 502 92 in cui all'articolo 9 si diceva che le assicurazioni e i privati potevano esercitare le funzioni del sistema sanitario nazionale quindi non era una integrazione non era una complementarietà o non era una libera scelta del cittadino praticamente toglievamo i soldi poi dal sistema sanitario entrava nel nuove mutue perché tutti si sarebbero buttati ho fatto in tempo con il ministro con il presidente Ciampi un grande presidente che ha avuto da mettere a posto il deficit dello stato quindi il nostro governo ha avuto questo bel incompito ma abbiamo fatto una finanziaria di 30 mila miliardi ho cancellato l'articolo 9 e con il decreto legislativo 517 e 93 abbiamo ripristinato il sistema sanitario che però aveva già segnalato che c'era chi erodeva l'essere pubblico dove pubblico è anche quello privato convenzionato nel senso che ci sono dei privati che fanno un contratto con lo stato adesso con le regioni se corrispondono ai criteri che la regione ha stabilito se vanno incontro ai bisogni di quella regione c'è bisogno di più servizi in un campo piuttosto che l'altro faccio un contratto vedo se corrisponde agli standard e poi faccio una convenzione c'è il modo in vendito abbiamo tanto convenzionamento e convenzionamento di qualità mi viene in mente Negrar così fuori da Treviso e fuori da Verona per dire che abbiamo un privato che può essere addirittura un istituto di ricovera di cura e scientifico luoghi in cui si fa ricerca che poi si può trasferire sull'intero sistema sanitario allora il sistema sanitario è rimasto universale per tutti si dice egualitario perché deve andare non c'è italiano o residente in Italia che non abbia diritto equo nel senso che anche il ristoro ticket pagamenti forfettari eccetera devono essere il più equo possibile ma un po' di difficoltà ha non continuo più nella spiegazione perché ci sarà chi parlerà meglio di me del sistema sanitario però credo cari ragazzi che anche da questo quadro che vi ho fatto abbiamo a che fare con un sistema che merita merita di essere tutelato è una delle tutele affinché non solo i ticket ma le tasse degli italiani lo mantengono è che si paghino le tasse c'è troppa gente che va all'ospedale va dappertutto gratis mentre gli altri pagano anche per loro siamo contenti di questa solidarietà però pagheremmo di meno tutti il sistema sanitario nazionale sarebbe certamente tutelato e quindi è un invito che vi faccio a questo rigore anche personale dei cittadini perché questo sistema è troppo importante per fare che lo lasciamo andare vi dirò che sono sicura che Zaia se fosse stato libero sarebbe venuto perché sa che non avremmo parlato troppo male del sistema Veneto vi dirò che per me era stato un benchmark il sistema Veneto c'era un assessore potentissimo qui in Veneto che era l'assessore alla sanità che era diventato un mio consulente era un senatore non costava niente Melotto Gian Battista Melotto perché davvero il Veneto allora fuori del sistema sanitario nazionale era in grado di aiutarci a pensare al sistema sanitario nazionale quindi il Veneto ha incominciato con un passo diverso dagli altri ma voi capite che per esempio la spesa storica che vuol dire che diamo il Veneto tanti fondi quanti li diamo alla Calabria era pro capite tot cittadini in Calabria tot cittadini in Veneto l'egualanza dei cittadini diamo la stessa cifra in Calabria in Veneto no non poteva essere in Veneto abbiamo un sacco di ospedali di alto livello abbiamo le università abbiamo tutto la spesa storica qui era notevolissima cosa poteva essere la spesa storica in Calabria quindi anche questo è un argomento aperto su cui non discuto e che il Presidente però conoscesse questa nostra situazione lo so perché ieri sera a Soave era contento di sapere che ero qui e che avremmo parlato di sanità quindi la sua lettera una volta tanto non è di pura cortesia e che sapeva davvero cosa eravamo qui a fare con chi e perché grazie non ho nulla da aggiungere se non ringraziare davvero di cuore personalmente e immagino a nome di tutti voi per questa straordinaria lettura retrospettiva ma certamente prospettica di una vicenda che deve vederci tutti reciprocamente fortemente impegnati verso uno sviluppo sostenibile della nostra della nostra sanità con l'occasione prima di procedere chiederei alla regia se sia possibile trasmettere un video che la Fondazione ha assemblato strutturato per omaggiare il Ministro Tinan Selmi grazie la Fondazione grazie attacca maestro bisturi anche il cinema italiano aveva raccontato come la sanità basata sul sistema delle mutue non era più adeguata per garantire i bisogni di salute di un paese che si avviava tra gli anni sessanta e settanta verso una fase di modernizzazione infatti con le mutue non tutti potevano accedere gratuitamente alle prestazioni sanitarie questo processo di rinnovamento iniziò nel 1958 quando fu istituito per la prima volta il Ministero della Sanità e poi la riforma ospedaliera del 1968 in cui gli ospedali diventano quelle strutture che conosciamo oggi non più enti caritatevoli ma strutture pubbliche nei primi anni settanta poi inizia il percorso per mettere la parola a fine alla lunga stagione delle mutue che si conclude nel 1978 quando viene promulgata la legge 833 che ingloberà anche la precedente legge 180 detta legge Basaglia che abolisce i manicomi nasce così il Servizio Sanitario Nazionale una riforma epocale attesa da decenni ma che arriva senza troppo clamore abbattersi per questa riforma era l'allora Ministro della Sanità Tina Anselmi una delle personalità di maggior spicco dell'Italia democratica nata a Castelfranco Veneto il 25 marzo 1927 partigiana sindacalista e parlamentare della democrazia cristiana la prima donna a diventare Ministro della Repubblica nel 1978 1976 assumendo il di Castero del Lavoro e Prividenza Sociale il principio cardine della nuova legge sulla sanità è che finalmente la tutela della salute diventa un diritto per tutti i cittadini ne erano esclusi fino a prima della riforma circa 2 milioni e 700 mila cambiare culturalmente lo stesso concetto di sanità che non è solo garantire prestazioni sanitarie ma è quello soprattutto di prevenire l'area in cui è necessario l'intervento sanitario attraverso un'azione di prevenzione che deve fare del cittadino non solo l'utente ma anche il gestore della propria salute bisogna cercare di aiutare il più possibile la famiglia perché il cittadino che può avere anche bisogno di cure ma non di spedalizzazione venga curato presso la famiglia questo non solo per un problema di spesa che è già importante ma anche per un problema diciamo di carattere umano psicologico la malato che è curato in casa se è curato reagisce di più alla sua malattia la combatte meglio qualche volta la spedalizzazione porta anche una depressione psicologica quindi vi sono anche questi elementi da non sottovalutare tre principi cardine del nostro sistema sanitario l'universalità la prevenzione e le cure domiciliari nelle parole di Tina Anselmi pronunciate oltre 40 anni fa sono di una grande attualità la visione di una donna che guardava verso il futuro dal 1978 ad oggi il servizio sanitario nazionale è cresciuto ed è in continuo rinnovamento ci sono stati in questi anni senza dubbio errori e ritardi e ha davanti a sé nuove e difficili sfide come l'invecchiamento della popolazione la digitalizzazione e le conseguenze della pandemia covid-19 che ha messo a nudo tante criticità ma anche la grande forza della nostra sanità considerata ormai tra le migliori al mondo l'impegno la costanza l'onestà di Tina Anselmi sono e saranno sempre un esempio da seguire e tenere vivo la rotta è stata tracciata c'è solo da seguirla l'impegno 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 personaggi lungimiranti invece di avere la prima donna presidente del consiglio avremmo avuto la prima donna presidente della repubblica è che proprio non ci sono arrivati bene ora passo la parola all'onorevole federico gelli che è presidente onorario della fondazione italia in salute e anima in realtà ispiratrice della nostra fondazione autentico motore e che è anche direttore generale sanità welfare e coesione sociale della regione toscana a te federico grazie grazie maurizio buongiorno a tutti è un grande piacere essere qui con voi per condividere questo momento importante significativo non solo per il comune di castelfranco veneto ma direi per l'intero paese perché parlare oggi di tiranzemi vuol dire parlare di una figura fondamentale per la storia del nostro paese e credo che parlare di sanità pubblica voglia dire parlare di un pezzo fondamentale di quello che abbiamo costruito che i padri costituenti hanno costruito e che il parlamento i governi che si sono succeduti hanno contribuito a migliorare lo stato di benessere di qualità della vita e di salute dei nostri cittadini in questo breve escursus di un po di slide che vi farò vedere il mio interesse è quello di eh rappresentare soprattutto ai giovani che sono qui presenti eh le cose che già in parte sono state tratteggiate dagli interventi che mi hanno preceduto ma per focalizzare l'importanza e il ruolo di questa riforma nel nostro assetto eh del nostro del nostro paese possiamo anche dire con una certa enfasi eh che una delle più grandi conquiste democratiche del nostro paese è il sistema sanitario pubblico nazionale e questo eh le dobbiamo andare grati a tiranzemi e a eh chi in questi decenni è riuscito ad alimentarlo a svilupparlo a migliorarlo compreso eh il ministro Maria Pia Garavaglia e molti altri eh che hanno eh dato questo importante contributo perché questa eh straordinaria realtà eh ci pone veramente in un confronto con eh altre democrazie occidentali ancora di più oggi eh alla luce anche di quello che è avvenuto con la pandemia eh in una condizione di maggiore sicurezza di quanto eh non potevamo essere ritrovarci se questo sistema non fosse se questo sistema pubblico non fosse stato presente. È stata già citato l'articolo 32 della Costituzione io ve l'ho riportato eh potrà apparire eh ormai ripetitivo questo questo termine eh ma eh questa la questa definizione eh la Repubblica italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti cioè già in questa eh in questa frase in questo articolo si descrive tutto l'obiettivo straordinario eh che la nostra carta costituzionale eh individua. Pensate la lungimiranza dei padri costituenti nel scrivere questo questo articolo. Chiaramente poi eh bisognava tradurlo eh lo diceva anche prima Maria Pia bisognava tradurlo in fatti concreti come quale strada eh seguire per eh rendere questo obiettivo credibile. Io qui vi ho messo l'escursus di quello che è successo nel nostro paese ed è molto simile a quello che è successo anche in altri paesi occidentali del l'antico continente europeo eh si passava da un sistema assicurativo volontario chi aveva l'assicurazione poteva avere un minimo di copertura poi al modello di assicurazione sociale inventato eh in Germania pensate da un militare Bismarck eh che intuì eh che eh poteva essere un elemento di tutela di garanzia quella eh della assicurazione sociale cioè tutti i lavoratori eh pagavano eh insieme al datore di lavoro una copertura assicurativa ma tutti quelli che non lavoravano e tutti quelli che non si potevano permettere eh di pagare un'assicurazione erano esclusi dal sistema e poi ovviamente eh un'ispirazione si parlava prima col professor Ricciardi proprio del fatto che nel 1978 i legislatori nazionali si ispirarono a questo che viene definito il modello beverage che è un modello eh sicuramente estremamente importante innovativo inventato da questo economista inglese eh ma che eh aveva ovviamente già allora già in Inghilterra degli elementi di di debolezza e di difficoltà ma era il passaggio la scelta eh eh importante. 1886 viene approvata a memoria diciamo recente la prima legge eh che stabiliva il diritto delle società di mutuo soccorso di erogare sussidi ai soci in caso di malattia, in abilità al lavoro, vecchiaia o decesso ai familiari del defunto. Era la prima forma eh di un sistema di un sistema embrionale di tutela di garanzia per chi era iscritto e per chi poteva far parte di una società di mutuo soccorso. Il modello Bismarck lo dicevo prima eh nel 1943 nasce l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie che nasceva dalla fusione di tutti i fondi di assicurazione eh per malattie obbligatorie a copertura dei lavoratori pubblici e dei lavoratori subordinati privati eh si uniscono eh poi successivamente tutti gli altri nei 15-20 anni successivi e finalmente nel 1978 eh la legge eh 833 che istituisce il servizio sanitario nazionale ed estende il diritto alla copertura sanitaria universale a tutti i cittadini e successivamente anche a tutti gli stranieri residenti. Questa riforma prevede tre livelli, un livello nazionale, un livello eh regionale e un livello locale. Quindi nasce un eh il primo nostro vero eh una prima vera scelta di sistema nazionale sanitario eco, solidale e universale. Perché la legge 833? Lo diceva prima Maria Pia. La salute è un diritto di tutti e quindi la Costituzione prevede che la tutela della salute, competenza legislativa dello Stato e delle regioni. Determina lo Stato i livelli essenziali di assistenza, quindi la cornice all'interno del quale deve essere garantito questo diritto eh per tutti su tutto il territorio eh nazionale. Le regioni programmono e gestivano in piena autonomia la sanità. Vedremo poi lo sviluppo che c'è stato negli anni successivi a partire dalla riforma eh del federalismo che ha introdotto eh nel 2001 la la modifica del titolo quinto che dà ancora più forza, ancora più ruolo alle alle regioni. L'universalità. Le prestazioni devono essere garantite a tutti, tutti i cittadini. La salute non è un bene individuale ma una risorsa della comunità. significa l'estensione delle prestazioni sanitarie a tutta la popolazione. L'uguaglianza. Tutti i cittadini sono uguali eh nessuna distinzione rispetto alle condizioni individuali, sociali o economiche. Equità. Tutti i cittadini devono essere garantita la parità di accesso, il rapporto è uguale ai bisogni di salute. Pensate l'innovazione di questi termini, di queste eh affermazioni previste nella 833. Vengono introdotti nuovi paradigmi. Fino ad allora si parlava di cura. Nella 833 si introduce una serie di capitoli eh estremamente importanti e nuovi che poi diventano il eh il pilastro di tutti i processi di cambiamento e di riforma del nostro sistema sanitario. La prevenzione delle malattie, la riabilitazione del paziente, la salvaguardia dell'igiene degli ambienti di lavoro e pensate al grande capitolo della tutela dei lavoratori, della sicurezza dei luoghi di lavoro. L'igiene degli alimenti. Pensate che non c'era prima di questa legge una disciplina che tutelasse la qualità degli alimenti o che garantisse che sulle nostre tavole arrivasse un prodotto eh di qualità eh non rischioso, non pericoloso per i nostri eh per i nostri alimenti. La prevenzione e tutela degli allevamenti degli animali, la sperimentazione, la produzione e distribuzione di farmaci, la formazione professionale. Ed è eh proprio eh come diceva la Maria Pia nel 1992 che eh proprio per i motivi che venivano accennati per la eccessiva possiamo anche dirla intromissione della politica eh nella gestione della sanità e un eccessivo costo eh il sistema così come era stato disegnato mirabilmente eh nel 1978 correva il rischio che fallisse drammaticamente. Ecco che quindi vanno a provare a creare condizioni di aggiustamento, di modifica rispetto ai temi del controllo, della programmazione. Si introducono quei principi che poi ancora oggi sono i cardine dei nostri sistemi sanitari. Una eh regione può fare una buona gestione della sanità se ha come cardine la programmazione. Programmare, individuare le priorità è uno degli elementi fondamentali ancora oggi. Le regioni assumono quindi ambi i poteri di programmazione, organizzazione e finanziamento dei servizi eh sanitari. Poi eh la eh riforma cosiddetta riforma Bindi nel 1999 la con la legge due due come vedete un'altra donna eh e su questo poi eh sono convinto che il professor Ricciardi farà le sue sottolineature perché parlerà proprio delle donne che si sono alternate al di castero della salute introduce eh elementi importanti, correttivi e affida a un modello di natura aziendale la gestione della sanità. Si passa quindi dall'unità sanitaria e locali che erano state le gli ambiti territoriali individuati inizialmente con la 833 e si parla di un modello più aziendale, cioè si prova a far, a tradurre il modello performante aziendale del mondo dell'impresa al mondo della sanità e si introducono le aziende sanitarie eh territoriali o ospedaliere con un maggiore ruolo eh dei manager, con un controllo di gestione, con dei eh bilanci e insomma si introducono eh eh meccanismi e principi fondamentali. Aumentano in maniera importante il ruolo eh dei professionisti. Eh i professionisti attraverso il cosiddetto governo clinico incominciano a contribuire eh nelle definizioni delle priorità, nelle definizioni delle linee guida, dei principi su cui far basare eh l'impegno. Siamo al duemilaventi, la pandemia, quindi abbiamo fatto un escursus veramente rapidissimo eh perché era questo il compito e la pandemia eh ci ha in qualche modo eh messo in evidenza quali sono gli elementi ancora oggi di difficoltà del nostro sistema. Abbiamo visto che l'assistenza territoriale è ancora profondamente fragile, molto fragile. Il tema dell'integrazione del territorio con l'ospedale, la carenza di una modalità organizzativa forte, molte regioni hanno puntato esclusivamente alla rete ospedaliera, abbandonando completamente l'assistenza territoriale, lasciata spesso solo alla presenza dei medici, di medicina generale e poco più. Durante la pandemia tutto questo eh viene eh a mettersi in mostra, in evidenza. L'ultimo pilastro di difesa nei confronti della pandemia sono rimasti gli ospedali. Vi ricordate eh le lunghe file delle ambulanze in attesa di essere accolte nei nostri pronto soccorso? La difficoltà dei reparti, l'idea in alcuni territori di attivare il cosiddetto piano di massiccia flusso perché non eravamo più in grado di accogliere tutti questi pazienti che arrivavano eh nei nostri ospedali. Quindi c'era un fallimento sostanziale delle modalità di cura e di assistenza del territorio. I medici di medicina generale spaventati non andavano più a curare a casa i propri assistiti. Tutto questo ha spinto eh i governi ultimi eh nazionali ad adottare eh nuovo sistema, un nuovo eh una nuova opportunità grazie a finanziamenti europei, grazie al PNRR, una eh importante scelta di riorganizzazione della nostra assistenza territoriale. Risorse importanti, modelli, capacità di risposte. È stata approvata eh il di il decreto ministeriale cosiddetto settantasette che introduce finalmente un modello unico in ambito nazionale sull'assistenza territoriale investendo nelle casse della comunità. Modelli che in parte in Toscana, l'Emilia Romagna, nel Veneto erano già presenti perché in queste tre regioni che vi ho in qualche modo elencato l'idea di un'assistenza territoriale si è sempre sviluppata. La casa della comunità che diventa il primo luogo fondamentale di cura del cittadino con il modello ABSPOC dove addirittura sarà possibile e lo so per certo perché ora facendo questo, svolgendo questo ruolo di direttore generale della sanità toscana mi confronto spessissimo con i miei colleghi del Veneto che è un investimento che anche qui in questo territorio eh verrà fatto. La in alcune realtà H24 cioè una possibilità di risposta per i cittadini senza necessità di doversi recare eh al pronto soccorso dell'ospedale. Le centrali operative territoriali che sono luogo della governance, della presa in carico del bisogno del cittadino. Non sarà più il cittadino a girare, a ruotare nei vari presidi e nelle varie prestazioni di un territorio, di un ospedale ma saranno queste centrali operative territoriali in maniera multidisciplinare e multiprofessionale che prenderanno in carico il bisogno del cittadino che potrà arrivare, potrà derivare da un bisogno sociale, sociosanitario, di salute mentale, di dipendenza, di qualunque genere e una volta che viene preso in carico da queste centrali sarà la possibilità eh di avere una risposta variegata eh distribuita il più possibile vicino alla residenza del paziente e del cittadino. E poi gli ospedali di comunità. Abbiamo scoperto durante la pandemia che avevamo forse puntato troppo alla riduzione dei posti letto dei nostri ospedali e guarda caso abbiamo dovuto ricorrere a strutture alternative. Abbiamo riaperto vecchi edifici, abbiamo utilizzato non sempre in maniera congrua all'RSA e abbiamo capito insomma che tra l'ospedale e il territorio e la cassa della comunità, i medici di famiglia, gli ambulatori del territorio mancava una struttura intermedia. Mancava cioè un luogo di ricovero a media bassa intensità assistenziale, un ospedale quindi dove può essere presente i medici di famiglia ma possono essere presenti anche gli specialisti e che permettono al paziente una volta dimesso dall'ospedale dove si deve rimanere ricoverati solo nel momento delle acuzie, della maggiore gravità ma non necessariamente dobbiamo stare in quell'ospedale per troppi giorni, troppi rispetto al decorso di quella malattia e allora è necessario prima che questa persona, che il paziente torni al proprio domicilio, avere un altro luogo di cura dove può essere accompagnato fino alla guarigione, gli ospedali di comunità. E ovviamente, e qui così lascio, do un asset alla professoressa Cascini che poi mi seguirà, per fare tutto questo dobbiamo utilizzare sempre di più le tecnologie, la telemedicina, le opportunità che durante la pandemia abbiamo sperimentato, pensate che è una cosa assurda, prima della pandemia non era accettata l'idea della ricetta dematerializzata, della DEMA, sembrava di dire una mostruosità ai cittadini e ai professionisti che, come prenotiamo sul telefonino, il viaggio in aereo o in treno o facciamo qualunque acquisto o qualunque cosa, non era pensabile che potessimo utilizzare invece della ricetta rossa cartacea o bianca, la ricetta dematerializzata. Bene, ormai oggi a regime, grazie alla pandemia, possiamo dire forse una delle poche cose positive della pandemia, abbiamo la ricetta dematerializzata, ormai che viene utilizzata da tutti ed è sufficiente farsi fare una prescrizione del medico e questa prescrizione non necessariamente deve essere data sotto forma cartacea, ma può andare direttamente in farmacia, può andare all'ospedale, può andare allo specialista e si semplifica e si facilitano le cose, come d'altronde, lo spiegherà poi Fidelia, le opportunità straordinarie tra i luoghi remoti del nostro sistema, i piccoli paesini montani, in realtà lontane e maggiormente disagiate, lontane da grandi centri dove è possibile utilizzare la telemedicina, la telereferitazione o altri strumenti simili dove ormai non c'è più bisogno che il cittadino faccia il pellegrino nello spostamento in queste strutture, ma è sufficiente utilizzare la tecnologia perché quell'immagine ecografica, radiografica o di altro tipo possa andare direttamente al consulente, al professionista preparato e competente nel grande policlinico e avere la rifertazione di una corretta diagnosi di quello che il paziente può avere. Ho finito, grazie, a presto. Grazie di cuore all'onorevole Gelli per questa bellissima carrellata, anche questa retrospettiva e prospettica e ora facciamo un salto, un balzo in avanti ma senza soluzione di continuità verso la sanità del futuro che in realtà già molto del presente, è un tema ovviamente che ci appassiona, interessa e coinvolge tutti, devo solo fare due piccole precisazioni nel riguardo preliminari relativa al fatto che noi si stia parlando di telemedicina, di nuove tecnologie, di digitalizzazione, di intelligenze artificiali, ecco i due temi che noi indaghiamo spesso e ne abbiamo parlato prima, la comunicazione diventa importante nella sua nuova e diversa declinazione perché le tecnologie comportano un diverso accesso verso l'utenza, la capacità di riuscire a relazionarsi con altre metodologie, cercare di capire se dall'altra parte in remoto ci siano davvero competenze e capacità di riuscire a dialogare perché la comunicazione è rimane irrinunciabile, non è surrogabile, a maggior ragione anche nei tempi della robotica e dell'intelligenza artificiale, il dato umano rimane centrale e poi sotto il lato della responsabilità, intesa nel senso del rischio di responsabilità, tutto ciò che è nuovo porta evidentemente alla necessità di attrezzarsi, studiare i fenomeni, ci sono nuovi players, nuovi processi, nuovi rischi e dunque nuove potenziali di responsabilità, quindi la messa a terra di tutti questi sistemi richiedono una profonda ponderazione circa la sicurezza delle cure e la rivisitazione dei regimi di responsabilità in funzione di queste novità. E detto questo passo la parola alla professoressa Fideglia Cascini che è responsabile della ricerca della fondazione, ma prima ancora è esperto della Direzione Generale della Digitalizzazione del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica presso il Ministero della Salute. Grazie Fideglia, a te la parola. Grazie e buongiorno a tutti. Ma intanto vorrei condividere la sensazione di quando Federico mi ha chiamato per dirmi il Comune di Castelfranco Veneto mi ha invitato per fare questo convegno e io la prima reazione che ho avuto è stata che bello, che bello perché? Perché c'è lo spirito di andare verso la nostra missione di salvare il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche perché in questo c'è un richiamo al passato, una memoria del passato e allora noi parliamo di futuro perché in qualche modo conosciamo quello che è il nostro passato. adesso se, ecco qui, facciamo un salto nel passato e vediamo in che modo si lega al nostro futuro e in che modo è imprescindibile. questo medico qui in alto a sinistra è un olandese, un fisiologo olandese, Wilhelm Eintowen. Ha inventato l'elettrocardiografia, nel 1929 ha preso il premio Nobel per la medicina ed è riuscito già a quell'epoca a fare il primo esperimento di telemedicina perché ha trasferito questo tracciato elettrocardiografico dal suo centro clinico a un centro accademico. Oggi voi tutti sapete, dopo anni e anni di distanza, che noi abbiamo la possibilità di avere tracciati elettrocardiografici ovunque, sui nostri smartphone, sui nostri orologi. Abbiamo perennemente sotto controllo la nostra situazione cardiaca, ma se questo non fosse accaduto già nei primi anni del novecento non saremmo neanche arrivati a quello che abbiamo oggi. E vedete ancora che nel 1944 è stata fatta a Baltimora, al centro John Hopkins, la prima operazione cardiochirurgica di un bambino con un difetto valvorale cardiaco e della orta, che è stata trasmessa in video in un circuito chiuso con tutta una serie di chirurghi colleghi del professor Blalock che hanno potuto apprendere visionare questo intervento chirurgico altamente d'avanguardia. Oggi dove ci troviamo? Oggi ci troviamo addirittura a fare telechirurgia meno invasiva, quindi ad avere dei supporti virtuali che ci permettono di essere a chilometri di distanza rispetto al paziente. Ed ancora, la telemedicina che ci arriva e ci porta nello spazio. Negli anni sessanta la NASA ha cominciato a mettere a terra un primo programma sulla telemedicina per curare a distanza gli astronauti. Oggi siamo arrivati al punto che nel 2020 un caso di trombosi della giugolare di un astronauta è stato curato dalla terra in una condizione anche disagiata perché non era disponibile l'anticoagulante, avevano solo enoxaparina e a distanza gli specialisti sono riusciti a gestire il caso clinico con ecografie continue con somministrazioni guidate dell'enoxaparina fino a permettere di far regredire il caso di trombosi. E non è solo cura alla telemedicina, che cos'è? È soprattutto prevenzione. Noi siamo arrivati al punto di disporre di dispositivi elettronici indossabili che ci permettono di registrare i comportamenti e gli stili di vita della popolazione. Si parlava prima di abitudini alimentari, di stili di vita legati ad abitudini come il fumo ed altre situazioni che possono essere pericolose per la salute e quindi si riesce attraverso dispositivi elettronici a monitorare i comportamenti e gli stili di vita delle persone per creare dei modelli di prevenzione targetizzati su sottogruppi di popolazione e anche a mettere in rete una serie di ospedali. Pensate negli Stati Uniti sono riusciti a creare un sistema che collega centri di terapia intensiva di diversi ospedali per identificare dei marcatori specifici di rischio per pazienti, per poter fare dei modelli personalizzati di intervento e prevenire l'evoluzione negativa di pazienti critici. Ed ancora, riusciamo attraverso sistemi di telemedicina a fare analisi predittive di condizioni a rischio di disturbi psichiatrici che oggi purtroppo vediamo sempre più in crescita e quindi i supporti tecnologici ci aiutano notevolmente da questo punto di vista. Su quest'onda arrivano anche le norme, naturalmente un po' più lente rispetto all'avanzamento della medicina e delle tecnologie ma insomma ci stanno seguendo e quindi vedete che nel 2020 arriva in conferenza Stato-Regioni le linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla telemedicina che riconoscono come servizi di telemedicina rimborsabili dal servizio sanitario la televisita e cioè una visita a distanza tra un medico ed un paziente con scambio anche di documenti, il teleconsulto che è invece un parere, un confronto tra medici quindi senza l'interazione con il paziente per confrontarsi su uno specifico caso, il telemonitoraggio che è un rilevamento continuo di parametri e di condizioni cliniche supportato da device digitali e la teleassistenza che è un tipo di servizio fatto e supportato da tecnologie svolto da professionisti non necessariamente medici. Il PNRR ha poi deciso di investire in modo specifico sulla telemedicina, oltre un miliardo di euro sono stati previsti per creare due specifiche componenti, la prima che è in capo ad Agenas che serve proprio per l'erogazione dei servizi, la seconda che è in capo al Ministero della Salute che serve invece per la diffusione della conoscenza e della cultura perché noi possiamo anche avere a disposizione tanti strumenti tecnologici ma se poi i professionisti o i pazienti non sono in grado di recepirli ed utilizzarli è come non averli e quindi il PNRR ha previsto degli investimenti duplici per permettere l'erogazione di servizi ma al tempo stesso per preparare la popolazione a conoscere cosa sia la telemedicina, quali le potenzialità e quali i rischi. E quindi si è parlato prima l'onorevole Gelli diceva di questa assistenza territoriale che è fortemente supportata dai sistemi digitali perché deve essere tutta in rete e ci sarà una centrale operativa territoriale che avrà il monitoraggio continuo in tempo reale di tutta la situazione degli accessi nelle diverse strutture di cura tra loro integrate proprio grazie ai sistemi di comunicazione digitale e quindi l'ospedale di comunità, le case di comunità, l'RSA, il domicilio del paziente perché l'idea della telemedicina nasce proprio per aumentare l'assistenza domiciliare integrata in tutti quei casi patologici di cronicità che possono essere gestiti al domicilio del paziente quindi non necessariamente essere accolti in ospedale proprio perché creerebbero dei ricoveri inappropriati e anche perché è un vantaggio per il paziente stesso essere curato al proprio domicilio e intercettato tempestivamente nelle patologie. Rimangono tuttavia delle preoccupazioni solo alcune sono quelle che io vi racconterò però sono importanti perché qui si è sfalzata la slide e questo mi dispiace non so se in tempo reale la riesce a gestire. Qual è il problema? Che purtroppo nel piano di investimento di ripresa e resilienza i calcoli non corrispondono perfettamente alla realtà e cioè è stato previsto un investimento per la degenza media giornaliera negli ospedali di comunità ad un costo di 106 euro dire al giorno ma in realtà se noi andiamo a vedere le stime reali fatte sulle esperienze di chi ha vissuto queste realtà già da tempo anche regioni italiane piuttosto avanzate in questo senso e gli studi fatti in proposito ci dicono che queste tariffe non corrispondono al vero almeno se così possiamo vedere di circa 30 euro al giorno e non ci fermiamo qui le risorse umane non sono state minimamente tenute in considerazione in questo piano di investimento ci troviamo in una condizione di immaginare una sanità del futuro dove la persona che deve erogare i servizi non è stata minimamente presa in considerazione in termini non solo numerici ma in termini di costi e quindi si prevede con rivalutazioni che abbiamo fatto noi che a partire dal 2027 i costi previsti saranno di circa 2 miliardi di euro ma quelli recuperabili stimati se tutto dovesse funzionare perfettamente arrivano al massimo a 1.3 miliardi di euro quindi già partiamo sapendo che avremo un deficit e quindi quale domanda ci poniamo noi guardiamo al futuro ma basta la telemedicina per chiamarla sanità del futuro beh qui vorrei riprendere le parole di maria pia di prima sulla riflessione che forse quello che ci manca è proprio ritornare allo stile di una volta allo stile di una sanità concepita come l'aveva concepita Tina Anselmi e che senza questo passato non ci potrà essere nessun futuro anche tecnologico grazie grazie Fideglia siamo perfettamente nei tempi e introduco senza ulteriori dilazioni il professor Walter Ricciardi che ci onoriamo ad avere come presidente del comitato scientifico della nostra fondazione ma che soprattutto come lo ha definito il ministro Garavaglia è un'autorità internazionale che non richiede altre presentazioni quindi vi passo la parola e lo ringrazio grazie perché si fanno incontri come quello di oggi perché si scrivono libri come quello che abbiamo fatto non soltanto per scopo celebrativo di una personalità straordinaria perché io ho una vera e propria venerazione come Tina Anselmi ma perché la loro esperienza di vita e il loro insegnamento tracci la strada e dia degli esempi concreti di quello che si deve fare per immaginare il futuro e il libro nasce proprio così l'aneddoto è questo avevo scritto un libro sulla sanità pubblica per l'università cattolica per la casa editrice dell'università cattolica lo stavo presentando insieme al ministro Speranza alla nostra università e parlavo proprio di Tina Anselmi cioè parlavo dell'importanza di tutto quello che abbiamo in qualche modo ascoltato stamattina e vedevo l'addetto stampa della nostra università che mi faceva degli strani segnali poi non ho capito ma che volevi dire? dice no guarda che Tina Anselmi si è laureata in cattolica e quindi è una nostra ex alumna allora ho detto ma veramente forse vale la pena che la nostra università in qualche modo scriva un libro celebri diciamo oltretutto in maniera strutturata poi ho scoperto che Maria Pia Garavaglia si è laureata in cattolica ho scoperto che Rosi Bindi diciamo sostanzialmente aveva ovviamente lavorato per un certo periodo di tempo in università cattolica Livia Turco pur essendo come voi sapete di radice comunista era una cattolica profonda credente Beatrice Lorenzin è anche una profonda cattolica per cui ho detto scusa ma c'è un filo conduttore tra questa grandissima leader politica cattolica e le altre ministre soprattutto che hanno fatto queste altre ministre donne rispetto a quello che hanno fatto gli altri ministri e allora abbiamo fatto questo libro questo libro in cui sostanzialmente insieme proprio ad altre donne che lavorano con me Stefania Boccia, Chiara Cadeddu, Annalisa Calabro Fideria Cascini e Chiara Devor abbiamo fatto uno schema lo schema è quello di narrare della loro biografia intervistarle per quello che hanno fatto e soprattutto per alcuni passi che non riguardano soltanto la loro vita la loro vita politica ma anche la loro problematica di essere donne di fare politiche da donne in questo paese e poi sostanzialmente pubblicare questo libro chiaramente non era possibile intervistare Tina Anselmi e allora mi sono preso l'onere attraverso i suoi libri che l'hanno deliberata e alcuni libri che ha scritto lei di intervistarle perché è straordinariamente importante parlarne oggi davanti ai giovani perché lo vedrete l'impegno politico di Tina Anselmi nasce in un momento di disperazione nasce in un momento in cui addirittura non si riusciva a immaginare il futuro perché si era nel pieno delle più terribili guerre della storia dell'umanità e oggi ci sono molte analogie perché però parlerà poi dopo la guerra il contributo è stato quello di far esplodere il progresso di pace e di prosperità del nostro paese però poi sostanzialmente anzi sostanzialmente in quel periodo dopo la guerra era un periodo di entusiasmo il futuro non poteva che migliorare il futuro non poteva che essere più rosio le conquiste non potevano che susseguirsi una dietro l'altra la prosperità il benessere c'erano milioni di italiani che morivano di fame letteralmente il Veneto peraltro era una delle regioni più povere in quel momento non era certamente una delle locomotive del nostro paese e però in questo momento se voi andate a vedere ne ha fatto accenno la professoressa Cascini e proprio ieri a Roma abbiamo fatto una riflessione con il collega direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Roma 1 che è una ASL che diciamo sostanzialmente gestisce una popolazione di un milione e duecentomila abitanti che praticamente diciamo i disturbi dei ragazzi soprattutto in seguito alla pandemia addirittura arrivano a coinvolgere il 40% dei ragazzi quindi sostanzialmente quasi un ragazzo su due ha subito degli effetti psicologici della pandemia e allora è importante in questo momento capire che ci possono essere dei momenti di difficoltà che possono essere superati con l'impegno per il futuro e però l'impegno per il futuro ci deve essere cioè quello che la prima cosa che ci insegna Tinanziermi è il fatto che non bisogna rimanere passivi questo è particolarmente importante in un momento in cui solo il 40% degli italiani va a votare praticamente io faccio ogni tanto degli esercizi a quando faccio lezioni agli studenti in medicina quanti di voi sono impegnati politicamente? Su 300 studenti? Uno? Due? diciamo sostanzialmente la politica viene vista come qualcosa di distante di sporco di compromissorio di fatuo quasi un teleshow e così poi conseguentemente si vota o non si va a votare questo è un errore e io sostanzialmente voglio dire che anche ragazzi normali come era Tinanziermi hanno fatto la storia partendo proprio da un punto di partenza e lei appunto in queste interviste simulata perché non ci ho potuto parlare dice non ho mai pensato che noi ragazzi e ragazze che scegniemmo di batterci contro il nazifascismo fossimo eccezionali eravamo normali e nella normalità troviamo la forza per opporci all'orrore il coraggio a volte mi viene da dire la nostra beata incoscienza quando lo stato fascista cominciò ad applicare i suoi principi con mano pesante a perseguitare a processare a deportare in Germania e le reggi razziali smisero a un tratto di essere qualcosa di stabilito dal fascismo non tanto per intima convinzione quanto per me era opportunità politica dovuta all'alleanza con Hitler con il nazismo ne cogliemo ecco una ragazza di 15 anni di 16 anni che capisce ne cogliemo tutta la portata mentre per lungo tempo non avevamo avuto gli strumenti per decifrarli non eravamo riusciti a immaginare che si sarebbe creato un sistema spietato per farlo rispettare dopo l'8 settembre non ci fu più alcuna distanza fra le due dittature e fu difficile non schierarsi qual è la difficoltà per voi ragazzi che voi non avete davanti un'immagine come quella che Tina Anselmi ebbe un giorno del 44 il 26 settembre del 44 a Bassano del Grappa perché quello che è successo a Bassano del Grappa fu che i nazifascisti rastrellarono per rappresaglia ieri si è parlato delle fosse erviatine 43 giovani ragazzi molto spesso coetanei quindi stiamo parlando di adolescenti o di giovani che senza nessuna colpa furono massacrati addirittura impiccati nella piazza di Bassano del Grappa e tutta la cittadinanza fu costretta ad assistere a questo scempio oggi si chiama proprio piazza dei martiri del 26 settembre del 1944 e dopo questa scena per cui fu impiccato anche il compagno il fratello della sua della compagna di banco lei disse cosa posso fare sto qui e guardo posso assistere alla sofferenza a quello che avviene intorno a me senza fare niente dovevo agire per non aggravare la situazione per non sentirmi corresponsabili di questi massacri e un ruolo importante lo gioca la sua religione perché parla col suo assistente spirituale che dice ma io posso andare a fare la resistenza posso prendere anche se lei non sparava però portava cose importanti che poi servivano diciamo posso partecipare a questa che comunque è un'azione violenta e l'assistente spirituale gli dice certo che puoi perché ribellarsi a questo tipo di cose anche con le armi è qualcosa di assolutamente importante congruente con la religione cattolica poi finisce la guerra e comincia la democrazia e lei a un certo punto dice che cosa faccio adesso che ho finito e il contributo delle donne è importante anche delle donne giovani come me che non avevano alcuna esperienza e dice per cambiare il mondo bisognava esserci e vi leggo e diciamo sostanzialmente poi finisco questa parte su Tinanzemi dicendo questo è il motivo che mi ha fatto abbracciare l'impegno politico la convinzione che esserci è una parte costitutiva della democrazia senza partecipazione non c'è democrazia e il paese potrebbe andare nuovamente allo sbando ecco il motivo per cui non dobbiamo tradire la resistenza dobbiamo conoscere e non tradire i valori su cui si è fondata questa pagina della nostra storia e dobbiamo essere presenti come lo eravamo ieri e con questo spirito che una volta finita la lotta di liberazione molti di noi hanno scelto di contribuire con un impegno civile alla rinascita del nostro paese affino ad arrivare ad essere la prima ministra della Repubblica ma per dire quanto concreti sono stati questi insegnamenti nei confronti delle colleghe che poi l'hanno seguita in questo importante incarico basta ripercorrere la storia di queste colleghe la prima è proprio Maria Pia Garavaglia che è stata intervistata da Fidelia Cascini perché è importante ripercorrere gli impegni di queste donne Maria Pia Garavaglia Rosi Bindi Livia Turco e Beatrice Lorenzini perché hanno attraversato in particolar modo Maria Pia Garavaglia Rosi Bindi Livia Turco un momento in cui il servizio sanitario nazionale correva il rischio di scomparire esattamente come e sarà la conclusione del mio intervento sta concretamente rischiando di scomparire oggi era quello di Maria Pia Garavaglia il momento successivo allo scandalo di Lorenzo alle tangenti a tangentopoli eccetera e lei con modestia come dice io lo faccio dire io ha salvato il servizio sanitario nazionale quello era un momento ve lo ricorderete in cui sostanzialmente la privatizzazione del servizio sanitario era proposta come alternativa da un partito liberale che come ha ricordato lei era l'unico che non aveva votato e guardate quello che è successo in Gran Bretagna l'avvento ormai di 15 anni di partito conservatore che non voleva il servizio sanitario nazionale ma voleva una sanità privata è sostanzialmente consistito nell'annichilimento del servizio sanitario nazionale inglese è il rischio che corriamo oggi e il suo impegno se noi oggi abbiamo la ricetta dematerializzata e per comprare i farmaci è perché ci sono dei farmaci che vengono distribuiti e tra i tanti meriti quello di Maria Pia è quello di avere elaborato un prontuario farmaceutico cioè i farmaci che debbono essere dati gratuitamente che da noi sembra scontato ma voi pensate che in Gran Bretagna per il diabete di tipo 1 cioè il diabete giovanile sostanzialmente viene pagato cioè non è un diritto scontato che naturalmente per noi ci sembra normale che una persona che abbia il diabete tipo giovanile abbia l'insulina tutti i mesi ma in America questo costava 400 dollari al mese fino al mese scorso quando soltanto per l'iniziativa privata di un'azienda fornitrice di insulina si è deciso di mettere un cap ma sapete questo che cosa significa? Significa che per un ragazzo di 25 anni che perde l'assistenza legata alla propria madre perché dopo i 25 anni la mamma non poteva più muore prima di compiere il 26esimo anno di vita è questo che a noi ci sembra assurdo è quello che succede tutti i giorni negli Stati Uniti in America se chiami una ve lo ricordate il medico della muta che dice prima incassi soldi poi opero è quello che si succede sistematicamente oggi negli Stati Uniti se voi chiamate un'ambulanza in Italia ci lamentiamo che arrivi magari con 20 minuti un po' invece che 10 minuti ma arriva gratis negli Stati Uniti quando tu chiami un'ambulanza e dici venite qua qual è la sua carta di credito che tipo di protezione ha e se quella carta di credito non ha almeno una protezione di 2500 dollari perché tanto costa in maniera minimale il trasporto non ci vengono proprio da noi è normale nascere in condizioni di sicurezza ma sapete prima del servizio sanitario nazionale quanti bambini in Italia morivano al compimento dell'anno 30 su mille quanto oggi muoiono in Afghanistan in Afghanistan oggi muoiono prima del compimento dell'anno 30 bambini su mille erano quelli che morivano in Italia agli albori degli anni 70 il servizio sanitario nazionale li ha annullati a due oggi abbiamo tra la mortalità neonatale e infantile migliore al mondo e questo è per dire il contributo ce ne sarebbero tanti altri la stessa cosa a Rosi Bindi nel momento in cui il servizio sanitario ancora una volta viene minacciato di privatizzazione lei fa una riforma a cui lavora quattro anni in cui ribadisce il concetto pubblico fa e lo ammette anche lei questo è un errore abbastanza importante una eccessiva spinta verso la regionalizzazione perché il servizio sanitario dovrebbe essere nazionale ma ormai di nazionale non ha niente perché sono 21 servizi regionali e due servizi provinciali perché se tu fai una regionalizzazione troppo spinta e non metti meccanismi di controllo di solidarietà è chiaro che le regioni e non c'è niente che oggi equivalga e equipari l'Italia da una parte all'altra voi pensate che oggi nascere nel sud significa avere un'aspettativa di vita alla nascita di quattro anni inferiore rispetto a uno che nasca nel nord ma sostanzialmente quello che succede è che Bindi salva ancora una volta il servizio sanitario nazionale il turco fa qualcosa di diverso consolida gli aspetti specifici del servizio sanitario nazionale l'integrazione tra sociale e sanitario quella legge straordinaria che è la legge turco-napolitano che dice che appunto quello che l'onorevole Gelli nell'articolo 32 sancisce vale per tutti non vale soltanto per i cittadini italiani vale per tutti coloro e sono sette milioni che sono venuti nel nostro paese a fare le badanti i camerieri gli operai gli autisti che in quell'epoca venivano legalmente cioè non con l'immigrazione clandestina venivano perché intelligentemente i piccoli i medi i grandi imprenditori avevano bisogno di mano d'opera e in un paese che non fa più figli e in un paese che invecchia la mano d'opera da dove la prendo io ho una collaboratrice familiare moldava sostanzialmente ne avevo prima una filippina ma se voi andate come succede in Gran Bretagna a offrire questi lavori agli italiani come nel caso degli Inghilterra che adesso alla Brexit sono praticamente paralizzati perché perché ci vuole un intelligente contributo e quello della legge turco-napoletano voi pensate ricorderete un momento in cui diciamo sostanzialmente si chiedeva ai medici italiani del pronto soccorso di identificare gli immigrati clandestini prima di dargli cura fortunatamente i medici italiani si sono ribellati noi facciamo i medici non facciamo i segnalatori della clandestinità perché c'è una legge turco-napoletano che dà diritto alla tutela della salute perché è il nostro interesse perché peraltro poi l'abbiamo visto con la pandemia nel momento in cui una persona è malata non solo non contribuisce allo sviluppo della società ma si nasconde anche per le malattie infettive questo è esiziale e poi abbiamo la la ministra Lorenzin io sono stato un suo stretto collaboratore sapete quello che abbiamo fatto per quanto riguarda le vaccinazioni ma anche la ricerca insomma è anche lei nel sorco delle donne finisco dicendo che cosa è qual è la situazione attuale perché bisogna che noi siamo tutti consapevoli che quel servizio sanitario nazionale così importante così bello al mondo è in una crisi preagonica cioè la dobbiamo smettere di dire che il nostro il principio che abbiamo difeso fino adesso è sostanzialmente valido ma oggi ci sono 98 milioni di prestazioni diagnostiche che sono saltate con la pandemia 10 milioni di italiani che sono in lista d'attesa pronto soccorso caotici dove il fenomeno del boarding che tecnicamente significa stai su una barella più di nove ore arriva al 50% delle persone che stanno più di quattro giorni non di nove ore quello sarebbe il limite e entri in un caos in cui sostanzialmente non hai la possibilità di essere assistito perché perché semplicemente non c'è personale non ci sono medici non ci sono infermieri non ci sono perché perché le risorse che vengono messe nei confronti del servizio sanitario nazionale avevamo detto che avremmo imparato dalla pandemia adesso sono addirittura inferiori rispetto e al di là della retorica dei due miliardi in più presenti in finanziaria non è soltanto una questione di questo governo perché era anche il governo precedente che aveva cominciato a chiudere i cordoni della borsa dobbiamo ricordare e l'ha detto benissimo la professoressa Cascini che se noi non finanziamo il servizio sanitario nazionale ritorniamo di fatto a quella situazione del medico della muta ci stiamo già ritornando quando si dice a una persona hai una patologia oncologica e dopo che io ti ho operato con una lista d'attesa che va da uno a due anni devi fare il controllo a due mesi ma il primo controllo che puoi fare gratuitamente tra due anni allora è chiaro che quella persona o ha i soldi per farsi sostanzialmente il controllo magari molto spesso nelle stesse strutture che naturalmente hanno questa lista d'attesa non se lo fa e sapete quanti sono gli italiani che stanno rinunciando alle cure perché non hanno i soldi del parato milioni sono milioni gli italiani che non hanno oggi la possibilità di bypassare i listi d'attesa perché? perché è un paese impoverito certamente alcuni si sono arricchiti ma molti si stanno impoverendo perché? perché c'è contemporaneamente una crisi geopolitica quella legata alla guerra in Europa dopo 75 anni c'è una crisi climatica ma voi ci pensate che abbiamo dovuto Italia, Francia, Germania mettere un commissario nazionale per l'acqua quando pensavamo che il bene acqua fosse un bene sostanzialmente stabile duraturo e c'eravamo illusi che il cambiamento climatico non colpisse il nord dell'Italia non il sud dell'Italia il nord dell'Italia con una siccità che è spaventosa e che oggi vede l'impossibilità di seminare o di irrigare percentuali importanti del territorio della pianura padana e diciamo del nord dell'Italia abbiamo una crisi diciamo inflattiva e questo è molto importante io ci ho messo 30 anni quindi ragazzi credo che non lo capiscono che è l'inflazione io soltanto la sintetizzo così l'inflazione è quella cosa per cui se tu guadagni mille euro al mese l'anno successivo è come guadagnandone mille che hai una potere d'acquisto di 900 cioè se l'inflazione è del 10% perdi il 10% del potere d'acquisto e se con i 900 euro devi pagarti il mutuo comprarti il cibo comprarti il riscaldamento che invece che costare meno di quando guadagnavi mille euro costano sostanzialmente in più ti impoverisci questo è sostanzialmente l'inflazione ma poi abbiamo una crisi produttiva abbiamo una crisi del personale allora per questo ragazzi è molto importante che voi senza scene traumatiche perché fortunatamente non ce ne sono capiate che è un momento analogo a quello della seconda guerra mondiale lo stiamo vivendo sotto diversi punti di vista certo mentre durante la seconda guerra mondiale ci è voluto il coraggio di Churchill di far capire chi era Hitler dopo che con il trattato di Monaco avevano diciamo fatto un accondiscendimento a quelle che erano le sue condizioni gli avevano dati i sudeti quelli studiati a scuola e poi lui si è preso tutto perché i dittatori con i dittatori non si può raggiungere ecco questa è la prima guerra che viene combattuta con i social media così come è stata la prima pandemia combattuta con o contro i social media era una pandemia difficile tant'è vero che c'è stato tutto un proliferare di fake news però i social media portano al fatto che mentre dopo la seconda guerra mondiale ci sono stati anni per processare i criminali di guerra al tribunale speciale di Norimberga il 17 marzo del 2023 il presidente della federazione russa contro il presidente della federazione russa è stato spiccato un mandato di cattura internazionale per crimini di guerra documentati quotidianamente da tutti coloro che attraverso telecamere presenti nei propri cellulari oggi possono documentare quindi quello che noi oggi abbiamo è una crisi diversa rispetto a quella ma ci sono molti momenti di analogia è il momento per tutti sia per più anziani che per i più giovani di impegnarsi ed è soprattutto il momento che le donne di questo paese si impegnino di più perché le conquiste che sono state fatte per loro anche dai maschi nel passato non sono per sempre come si sta dimostrando quelle che sono tutta una serie di attacchi a quelli che sono i diritti delle donne non solo in Italia ma pensate a quello che sta succedendo in Afghanistan o in altri paesi quindi è molto importante che in questo momento si si allei da un punto di vista generazionale intergenerazionale come ha fatto Tinan Sedmi che da sedicenne prese la bicicletta col nome di Gabriella e garantì al nostro paese da quella bicicletta un servizio sanitario nazionale che tutto il mondo ci ha invidiato e che io spero ci continui a individuare grazie per la vostra attenzione grazie a professor Ricciardi per lo slancio con cui ha concluso questa sessione di relazioni siamo stati particolarmente efficaci ed essenziali perché siamo in anticipo sui tempi cosa che in altri convegni forse un po' più noiosi non capita prima di chiamare sul palco la consigliera Pavini per le conclusioni però il ministro Garavaglia voleva forse aggiungere qualcosa e ogni sua aggiunta è preziosa aggiungo grazie non si accende volevo rivolgermi ancora ai ragazzi con una frase di Tinan Sedmi le vittorie non sono irreversibili per agganciarmi già che ha detto come ultimo messaggio il professor Ricciardi però già che ho preso il microfono primo mi compiaccio siete stati attenti non avete giocato con nessun aggeggio grazie davvero secondo spero che vi abbiamo entusiasmato e vi venga voglia di fare il medico o di affrontare qualche professione sanitaria sarà di grande soddisfazione dedicarsi al prossimo nei momenti in cui di solito si ha più bisogno e si ha anche paura di aver bisogno e troverete il posto di lavoro subito terzo abbiamo continuato a parlare un po' sotto le righe perché eravamo qui a parlare di sanità non d'altro di quanto si avvalsa molto la radice sia di donna credente sia di donna decisa a fare scelte tant'è che la prima scelta è stata quella adesso io mi impegno per la salvezza del mio paese c'è chi ha fatto politica perché aveva principi non a causa della fede ma con fede voi sapete che c'è una legge perché viene citata spesso che è quella sull'interruzione volontaria della gravidanza che si chiama legge sull'aborto era ministro latina e ha firmata perché il ministro della salute che firma le leggi sanitarie era primo ministro Andreotti un altro cattolico voi non potete immaginare come sono stati criticati questi due personaggi molti ecclesiastici avrebbero voluto vederli bruciati sul rogo e comunque dimissionare no ragazzi lo stato non è etico finanse mi ha lavorato a corso dei rischi per far che lo stato fosse democratico e nella democrazia le maggioranze ci piacciono o no se vincono le elezioni decidono la 194 era stata provata in Parlamento con sei voti di scarto sei perché molti laici ovviamente alcuni amici liberali che hanno votato contro la 194 ci fu un referendum popolare solo il 36 virgola qualcosa per cento è stato contro la 194 la 194 c'è appartiene alla storia anche della tutela della salute delle donne e quindi semmai abbiamo bisogno che venga applicata bene perché qualche volta lo stato mette sulle spalle delle donne problemi che non sa risolvere perché tra i motivi per cui è depennato è legalizzato l'aborto in Italia uno dei quattro motivi è i problemi finanziari ebbè la Repubblica almeno quelli dovrebbe rimuoverli però siccome è più difficile rimuovere i problemi finanziari si arrangino le donne e si risolvono loro il problema che è un po' quello che verrà fuori anche sulla è un altro tema spinoso sulla gravidanza per altri invece per rimanere a Tina oltre che le vittorie non sono irreversibili questa donna ha fatto la partigiana vi dicevo tutta la sua vita politica perché è un'altra cosa che anche gli adulti conoscono meno è che un'altra donna Nilde Jotti ha avuto il coraggio e Tina di rispondere sì di nominarla presidente della commissione P2 una commissione di una loggia coperta segreta quindi e la Costituzione tra l'altro vieta le associazioni segrete che aveva come obiettivo la dissoluzione del nostro Stato democratico fu una presidenza difficilissima dolorosissima pericolosissima Nilde Jotti sapeva cosa proponeva Tina Tina me l'ha detto abbiamo pregato un po' e entro venti minuti ha dato la risposta a Nilde Jotti è stata minacciata di morte e comunque ci fu una morte civile vero Anna perché alla fine il suo partito perché anche nel partito c'erano gli invidiosi i vendicativi e gli odiatori l'hanno messa in lista in un collegio dove di sicuro l'ottanta per cento sarebbe stato della Lega e così è uscita dal Parlamento una delle nostre donne più significative in senso assoluto che con la Commissione P2 ha salvato il sistema democratico non era più solo avere un bel sistema sanitario nazionale ha salvato il sistema democratico quindi io vi invito davvero non perché è una vostra concittadina ed è un grande testimone della nostra Repubblica democratica ma perché avete visto che vale la pena fare politica vale la pena fare politica si aiutano i nostri concittadini si aiuta il paese anche se nessuno non solo non ti ringrazia non solo non ti ringrazia ma esprime addirittura irriconoscenza ragazzi studiate però avete sentito Ricciardi come parla Gelli Azan cioè bisogna essere competenti perché se si sanno le cose si spiegano bene se si spiegano bene non si è vittime delle fake news le notizie sbilanciate diciamo così sono di solito interessate se uno conosce la radice poi può lo stesso pensare sbagliato ma almeno è andato a vedere esattamente qual è la fonte quindi con i social sarà difficilissimo sempre avere una garanzia sulla giustezza equanimità verità di ciò che si sente e si vede però guardate che voi adesso più della mia generazione avete tanti strumenti per diventare competenti avere la mente aperta quando penso alla Ucraina penso che voi che adesso un po' con Erasmus benedetto Erasmus un po' con tutto il resto state diventando davvero cittadini del mondo lavorate per gli Stati Uniti d'Europa che saremo davvero un bel cuscinetto fra le grandi potenze ma soprattutto voi che imparate tante lingue che andate in giro che avete amici stranieri sarete gli unici che potranno ottenere la pace nel mondo perché vi conoscerete tirate sul telefono e vi parlerete non avete bisogno dell'interprete fra Jinping e Putin insomma voi siete davvero il futuro non solo della sanità italiana della nostra vita della pace e anche dei vostri successi grazie di averci ascoltato grazie mille al ministro Caravaglia mi permetto di aggiungere un'ultimissima cosa io non ho questo background e quest'anima politica sensibile direi umanistica profonda che io apprezzo moltissimo in tutti i correlatori che hanno parlato e che mi entusiasma io sono abituato a parlare in convegni molto molto tecnici troppo tecnici in cui in cui in cui alla fine il gusto della della logica travolge quello che è il senso vero autentico profondo e razionale dei principi qui invece i principi sono stati declinati in maniera meravigliosa e mi danno molta molta forza per poter continuare in questo tragitto che abbiamo iniziato con la fondazione che porteremo sicuramente avanti ancora più forte oggi dopo questo convegno di cui io tutti vi ringrazio ai giovani ho tre figli che sono giovani e quindi ho molto in animo il loro futuro che è alla fine il bene assoluto a cui dobbiamo presidiare io direi che recupero questa frase di Bertrand Russell che ho messo su Facebook quindi io sono un social un social anacronistico ma sono tale e in cui si dice non esiste la verità assoluta non smettere di pensare siate fuori dal coro siate il peso che inclina il piano siate il peso che inchina il piano questo è il tema centrale Tina Anselmi diceva il ministro a corso dei rischi ecco non adeguatevi fate la differenza siate l'ago della bilancia siate la forza che assicura il nostro futuro migliore grazie 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 al consigliere Pavim per rassegnare le conclusioni grazie di averci invitato grazie di cuore bene oggi abbiamo concluso questo terzo convegno dedicato a Tina Anselmi spero che le vostre aspettative siano state soddisfatte io veramente i contenuti sono stati alti ampi ed era un po' quello che l'amministrazione voleva un'analisi del passato per poi capire come sarà il futuro grazie ai relatori perché sono rivolte agli studenti in teatro abbiamo 86 studenti degli istituti superiori in Aiting nel sociale di Castelfranco che anch'io ringrazio per la loro presenza adesso per ringraziarmi se l'assessore al turismo mi dà una mano non abbiamo pensato a un piccolo pensiero per così il minimo per ringraziarvi per quello che avete fatto perché siete venuti qui e voglio anche sottolineare che i relatori sono venuti a titolo gratuito quindi merito ancora un applauso che coincidenza però che voi siate l'istituto Nightingale ho capito bene Nightingale Nightingale la famosa donna della lampada l'infermiera per eccellenza degli infermieri pensate a una ex presidente della Croce Rossa che grande amore ho io per la Nightingale sono contenta che ci sia stata questa coincidenza anche oggi bene ministro quindi facciamo un omaggio delle terre del Giorgiore una delle pubblicazioni più interessanti che abbiamo è un grande regalo è un pagamento sufficiente aggiungo che nel foyer del teatro potete trovare il libro di Walter Ricciardi e se avete piacere anche per una sua firma grazie ancora della vostra presenza arrivederci